Per me ti metti una parola? Aspetta! Gringo! Una parola! Dai! Aspetta! Dov'hai? A gringo! Oh! Amico! Fermati! Amico! Sono cascadito oggi! Senti, facciamo una bella cosa! Guardami! Tu dare cappotto a me, io dare questi 10 euro a te! No, no, io ho bisogno di questo! No, guarda, allora! 15 euro! Dai, cosa te ne fai di questo cappotto? Fa caldo! Fallo per il mio amico di suo padre! Era molto affezionato, tieni! Spiace per tuo padre, ma cappotto buono per me! No, guarda! Ecco qua! Sono troppi, sono troppi, sono troppi! Sono troppi, sono troppi! Come cos'è? Sono 500 euro! Troppi, troppi! Ma non hai visto sodo così! Tu prendere in giro! No! Questo sodo falso! Stasardo è vero! No, 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 con dolcezza! Io dare cappotto! Dai, dai, dai! Forza! Ma tu dai a me tuoi scarpe! Queste scarpe? Eh no, ci guadagni te! Ma certo! No, no, ci guadagni te! Oh, ma certo, guarda! Ma i gusti, guarda, guarda! Sono anche morbidissime, eh! Ma bravo, sì! Ottima scelta, guarda! Te le do volentieri! Ecco, guarda! Guarda! Perfetto! Ciao, eh! Ciao! Te prendi in amicosi? Buttali! Ma no, con questi soldi guarisce tutto! Vedrai!